Ma la Torella ha fatto togliere i riscaldamenti al colle per arrivare a meno 10 gradi in modo da sentirsi più vicino alla grande madre Russia L'altro giorno la Scala lo hanno applaudito tutti per evitare di essere fucilati sulla Piazza Rossa Sarà un altro comunista bolshevico, come era Giorgio Napolitano che quando stava al Quirinale anziché i corazzieri ci ha messo i cosacchi Ma è vero che non succeda come con Conte L'unico presidente del Consiglio nella storia d'Italia ad avere meno capacità del phon con cui si cotonava il ciuffo